Urne aperte oggi domenica 3 ottobre e domani lunedì 4 in 28 comuni delle Marche. Ci troviamo ad Acqua Santa nel seggio numero 1 e abbiamo sentito il presidente del seggio che ci ha confermato che il raggiungimento del quorum dovrebbe essere vicino. Abbiamo sentito anche alcuni cittadini che si erano apprestati alle urne. Sentiamo la loro voce. Diciamo che la percentuale è nella media. Nel nostro senso sono iscritti circa 696 elettori. Attualmente hanno votato circa 180 elettori. Considerando l'orario diciamo che siamo nella media è una percentuale che ci sta a quest'ora. Speriamo in serata di raggiungere il cosiddetto quorum. Urne aperte oggi, questa domenica, lei è già andata a votare? No, ancora no. Quando pensa di andare? Appena ha fatto pranzo andiamo a votare. Lei è andato a votare? Sì. Quanto è importante secondo lei il voto? Beh, è importante per il sindaco perché tanto c'è pochi di qua. C'è una lista sola? Sì, sì, una lista sola. Urne aperte d'Acqua Santa, lei è andata a votare? Sì, sì, assolutamente sì. È importante direi per dare una mano al paese che diciamo ha dei problemi oggettivi sperando che l'amministrazione sappia gestire e fare cose importanti. Sto andando adesso a votare. Quanto è importante il voto? Eh, senz'altro per questo paese è molto importante perché dopo quello che abbiamo avuto soprattutto il sisma e poi la pandemia. Alla lo rimane per dirvi a fare la cosa che non ha City. Ci siamo noi è proprio da�로 fare una pandemia. Ci sono quello che è stato winning una pandemia